Ciao a tutti, oggi prepareremo la zuppa di legumi e cereali. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono sedano, carote, scalogno, olio, piselli sorgelati, cereali misti, acqua, dado, zucca a pezzetti, sale, fagioli cannellini lessati e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sedano, la carota e lo scalogno ed azionare i bimbi per tre secondi a velocità sette. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per quattro minuti, 120 gradi, velocità 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la zucca, i piselli, i cereali misti, il sale, il dado, il pepe e l'acqua. mescolare con la spatola e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma. anti-orario, velocità soft. Aggiungere i fagioli e continuare a cuocere per 10 minuti. temperatura varoma. anti-orario, velocità soft. La zuppa è pronta, trasferire in un piatto da portata, irrorare con un filo d'olio e servire. zuppa di legumi e cereali. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.